Ciao a tutti ragazzi e ragazzi di questo nuovo video di BattleBlockTheater, dopo millenni che non giocavamo a questo gioco. Ecco di tempo. Vedete qualcosa cambiare? Non qualcosa, tipo tutto, l'angolazione della videocamera. Io con gli occhiali perché il computo è troppo lontano e se no non vedo. E basta. Noi siamo sempre gli stessi. In teoria la luce dovrebbe essere migliore oggi. 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 Perché si è dimenticato i treppieri? E quindi stiamo usando la reflex che in teoria è più... è più... è più... capite? Capite, no? Ah, tra l'altro vedete Marco che tipo la faccia a forma di baguette. Però non è una baguette, è praticamente la festa del papà. È il weekend della festa del papà, può essere. Ma quando è la festa del papà? Ma stai chiamando solo Father's Day. Comunque all'inizio del gioco ci ha detto Happy Father's Day Weekend e ci ha regalato un personaggio. E io ho solo il figlio. Che poi il figlio già l'avamo sbloccato tempo fa. Ma dove siamo arrivati? Non mi ricordo. Ricordiamo che per i nuovi, per i nuovi perché sono arrivati i nuovi iscritti. Che questi livelli qua... Che culo, ho preso la gemma. Ok, perfetto già, devo lanciarti. Sì. Questi sono dei livelli aggiuntivi. Nooo. Che sono abbastanza complicati che è a tempo, ragazzi. Porca merda. No, è difficile. Dici. Ok, vieni. Oh, scusa. Dai che sponi qui. Vai, viaggia. Che culo stai, stai, prendimi. Stavo stannutendo un attimo. Che brutto, non è così. Ah, cura. Qua c'è il jetpack. C'era il jetpack. Nooo, mi sono infilzato. No, mi sono infilzato. Dai che ne prendo tutti e due. Le ho presi tutti e due. No, mi spau una, spau una jetpack. Ma mi sa che ne fico prendo... Ma che pa minchia, non è giusto. Ma che pa minchia, ragazzi. Ora, grande, mi hai lasciato pure quella a me. Niente. Che culo. Vabbè, banchilo. Mi hai salvato la vita. Che devo fare? Che devo fare? Aiuto, ho paura. Oddio, oddio, oddio. Ok, vieni, Tom. Vieni, subito, subito. Salta. No. Dovevi... Levarti. Eh... Beh, salta. Ok. Appenditi. Appenditi. Ripeto. Ok, ok, ho capito, ho capito. Aspetta, aspetta. 30 secondi. Vai tu. Scusa, scusa. Me l'hai levato sotto i piedi. Non... Basta, fermo. Perché qua non ce la facciamo. È confusionario, è confusionario, ragazzi. Mai. Nooo. C'ero. Abbiamo capito come fare. L'importante è quello. Ripetiamo il livello, no? Ce ne fai, Ned. Ok. Prendi il checkpoint. Sto morendo, aspetta. No, io li... Eh, vabbè, lo stesso, lo stesso, lo stesso, lo stesso, lo stesso. Aspetta, no. No, aspetta. Vai. Perfetto. Vabbè, in caso mori, eh. Ma che cazzo non c'è? Vai sbrigati che mentre sto mangiando. Non è che... non ci arrivo, sì, ci arrivo. Ma che culo, vieni, vieni. Ma no, rimani, rimani lì. Ok, arrivo, 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 arrivo. E dove? Ah, pia, pia. Vabbè, muoio. Fa come vuoi. Fa come vuoi. Piano. Che culo, vieni. Cosa fa sta cosa? Devi levarti. Devo lanciarti, devo lanciarti. Vabbè, questo è acrobazio, vabbè, finisco il livello. Piglial, pia, non puoi finire, quello sotto, quello sotto, piglia il diamante sotto, sotto, perfetto. Ora puoi finire. No, ce la faccio, vieni tu. Aspettami, no. 30 sec... ce la facciamo, ce la facciamo. Aspetta, vieni, vieni, vieni. Vieni su, vieni su, vieni su, abbiamo 30 secondi, vieni. Possiamo prendere queste gemme. Ti lancio. No. Lancia pittu, lancia pittu. Ok, va a finire. Razionalità, ragazzi, razionalità. Ma comunque c'è stata qualcosa che non andava, il gantti ha fatto finire lì, vabbè. Ero sul bordina. Ok, dai, dai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, un play. No, no. Però abbiamo una nota. Questa cosa possiamo sbloccare questo personaggio. Ora, eh vabbè. Ora no, però dico un altro, facciamo un altro. Perché hai un occhio? Perché tu ne hai due? Perché ci sono un umano. Ok, che è un umano. Oddio no. Io ci stanno, non hai intuito. Ci stanno, ci stanno, no, come si deve fare. Penso. Guarda le frecce. Ah! Oh, check point. Ok, col singhiozzo. No, 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 no. Che culo, vieni. Ok. Ho fatto incattere tutte le cose, la gialla. Si, ecco come si fa. Marta. Ma il check point non era là. Io avevo preso il check point. Devi saltare veloce, salta veloce, salta veloce, salta, 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 salta veloce. Come sono noi, si sapevo fare, Johnny? Che so, Johnny. Eh, Marco. No, perché sono roto? Per farmi sparare da te. Wow! Ti stai rendendo conto di che casino? Ti stai rendendo conto di quello che stiamo riusciti a fare. Si. Ma che ho fatto io? Non l'hai visto? Ma non fa... Sono passati in mezzo a due rocce volanti. Posso non finirla. No! Ma finisci, abbiamo finito. Io sono stato lanciato in una piada, tipo un uomo sbattuto. What a wonderful world! What a wonderful world! Che sto studiando? Le cose barbute qua. Guarda là, guarda, guarda. Dove... No, no, non chiede, non fare domande. Vedi che là c'erano delle cose bello... Ah, ti ha fatto grande! Bellissimo! Oh! Devi solo stare fermo, non fare niente. Eh, una parola, prima di... Sì, e qua la devi spingere. Ok. Spingi! Che cazzo le palline! Eh, vieni, non dirlo. Non dire palline. Non dire palline! Non dire palline! Si dice testicolini! Semmai! Ok! Pallette! Si dice pallette! Ma che cazzo dobbiamo fare? Io prendo la roccia e la tiro qua. E va, non c'erano cazzo e me le vado solo. Ma forse tu hai capito tutto! Ma tutte le armi le pio tutte, i gomitolini ce ne fai venire. I gomitolini che cazzo sei... Piip! Ora... Che c***o! Vai, fai... No! È che bisogna tirare? Sì, sì, sì. No, 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 no! Ah, ce la facevo. Non facevo il coglianaccio. Ok, ok, ok! No, devi metterti la salva a te! Vabbè! Togli quei costi, togli quel blocco, togli quel blocco e pia di maiane! Non ce la faccio più a parire! Non ce la faccio più a parire! Invece il mal di cosa a me! E farla fare a te! No, minchia! Però non salta! Oddio! Oh! Potevi usarmi! No! Che c***o! No! Vabbè, è così, giusto! Giusto, giusto, giusto! No, no! Che c***o! Meno male! Meno male che mi ha visto e l'hai richiamato! No! Che c***o fa? Brutto maiale di merda! Ok, mi si è buggato il maiale! No! C'è qualcosa di strano! C'è qualcosa che non va! No, abbiamo sbagliato a fare qualcosa sicuro! Ci sarà qualcosa da disattivare! Ci sarà qualcosa da disattivare! L'ultimo livello è tosto, ragazzi! L'ultimo livello è tosto! Come sempre, Scene Failed! Allora! Com'è possibile? Cos'è che... Cos'è che l'ultimo fatto? Ma sto capito! Ma sto capito! Vai, vai! Attento! Devi cadere quando ci sono loro! Hai capito? Sì! Ho capito tutto! Bravo! Eh, che c***o era così semplice! Era semplice! Bisogna applicarsi nella vita! Tre! Due! Una! Ok! Yes! Via, via, via! Ho c***o! Vai che sto cadendo! Non c'è che poti... Stavo cadendo io! Ci siamo ascoltati qualcosa! Forse c'era qualche sagratuccio! Ragazzi! Patience! 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 Hashtag! Non si può fare! Vedete poi di mettere questa... Non si può fermare questa! Hashtag è poi il segno di botto! Così! Con le lineette dell'aria! 15 ce la possiamo fare! Perfetto! Uno! Quello sono io! Questo è McRuffalo! Va vero! Va bene! Possiamo andare! Ci sembriamo McRuffalo! Comunque ragazzi! Il video finisce qui! Vi ricordo sempre! Resta! Non girassi qui! Sì! Io già sto venendo! Vi ricordiamo sempre di mettere pollice in su se questo video vi è piaciuto! Sì! Scriveci nei commenti se volete altri video di questo gioco! E basta! E condividete! E basta! 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 Ciao! Basta! Basta! Grazie a tutti.